Siamo a Sant'Alessio Sicolo con l'onorevole Ernesto Carbone, neocommissario per il PD di Messina. Il PD che vorrei era lo slogan lanciato in questo primo incontro qui nella zona ionica. Tutti hanno detto che vorrebbero soprattutto un partito, delle regole certe e la presenza di questo partito sul territorio. Il commissario cosa risponde? Mi sembra una cosa assolutamente giusta. Un partito secondo me deve essere un partito coeso, un partito leale, un partito veramente democratico. Dalle due ore di ascolto di oggi è uscito fuori proprio questo. Quindi ricostruiremo un partito in base a questi tre principi che sono alla base di una vita democratica che ha un'associazione. Lei ha detto soprattutto che pretendo lealtà da parte di tutti. Certo, ma semplicemente pretendo il rispetto delle regole democratiche, dunque la lealtà e dunque un partito unito. Da questi primi incontri che partito c'è? Siamo sulle macerie oppure c'è possibilità di ricostruirla abbastanza bene? Ricostruiremo un grande partito. Ricostruiremo un grande partito.